Vai! Secondo giorno, siamo di fronte alla City Hall che fu costruita nel 1912, c'è intervinata nel 1923 è stata costruita attraverso l'utilizzo di 8.000 mattoncini non i mattoncini Lego, ma i mattoncini veramente mattoncini, mattoncini l'atterizio, credo ed è stata costruita su due piazze la Civic Court e la Blue Hall la Blue Hall è meglio nota per il premio Nobel la famosa Sala Blue esatto, infatti lì viene celebrato ieri abbiamo visto l'Accademia, ti ricordi? assolutamente, l'architetto è Lagnar Hostberg penso si chiama così e nella City Hall ci sono i politici che discutono dei vari problemi della città di Stoccolma che come abbiamo notato in questi due giorni sono tanti questi due giorni e anche un giorno un giorno e mezzo va bene, io direi di entrare e di farci un giro che poi ci vediamo sta diventando bravo a presto a presto But when we're dancing, I'm alright It's just another graceless night Are you lost enough? Have another drink, get lost in us This is how we get notorious, oh-oh-oh-oh Cause I don't know if they keep telling me where to go I'll blow my brains out to the radio, oh-oh-oh All of the things we're taking Cause we are young and we're a six Sent us to perfect places All of our heroes fading Now I can't stand to be alone Let's go to perfect places Every night I live and die Meet somebody, take them home Let's kiss and then take off our clothes All the nights spin off our faces Trying to find these perfect places What the fuck are perfect places Anyway And let's do it